Giorni nel nome della solidarietà e calore per i più bisognosi, per questo domani verranno donati dei pasti caldi alla chiesa di Santa Rita. Il dilagare della pandemia da Covid-19 ha ingenerato consistenti disagi economici e di sussistenza a un numero sempre maggiore di famiglie, le quali a volte devono anche affrontare la difficoltà di procurarsi in maniera autonoma generi alimentari necessari. Pertanto la delegazione gran priorale di Siracusa e Ragusa del sovrano militare ordine di Malta, in aderenza ai propri principi fondati e grazie all'ospitalità e alla collaborazione del parroco della chiesa di Santa Rita, Monsignor Giuseppe Sudano, cappellano dell'ordine, provvederà ad una distribuzione di pasti caldi e generi alimentari. Distribuzione programmata per domani dalle ore 18. Presso la parrocchia in Corso Gelone numero 93, la chiesa di Santa Rita.